Juventus-Inter arbitra doveri, lo stesso arbitro che ci ha fatto perdere la finale di Supercoppa italiana regalando dei rigori all'Inter. Se non è un complotto, quasi 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 ci manca. Allora, prima di approfondire questo discorso, vi ricordo come sempre iscrizione al canale che è gratuito e lo sostenete. Lasciate un like se il video è stato poi di vostro gradimento, commentate e attivate la campanellina. Dopo la sigla approfondiamo questo quasi complotto. Le esigenze di madame e messie, signori e signori, ma i signori quelli veri, quelli gobbi bianconieri della vecchia signora. Rieccoci qui, un giorno sì, un giorno, eccolo! E lo immaginavamo tutti! Quale arbitro potevano mettere? Bene, mettono doveri. Perché come dire, è già la sicurezza, sa come far vincere l'Inter e come fa perdere la Juventus. Io mi baso su quello che è successo nell'ultima partita arbitrata da questo signore, che sicuramente sarà un bravo arbitro, e ce lo mettono nel derby di Canna, una partita che può essere decisiva per la Juve per rialzarsi per bene. Ma io da Juventino faccio un altro discorso, io da tifoso ne faccio un altro discorso. E cosa dico? Dico che la Juventus deve essere superiore ad ogni complotto. Dobbiamo battere l'Inter, dobbiamo battere il VAR, dobbiamo battere questi complotti d'arbitri. Perché è una cosa veramente vergognosa, e lo sappiamo, come hanno fatto sparire le immagini lo scorso anno sul rigore di Zakaria, ma lasciamo stare! Lasciamo stare come hanno fatto sparire Candreva e Juve Salernitana, lasciamo stare! Ma ci ricordiamo tutti del rigore Giuliano Ronaldo, ci ricordiamo tutti del fallo di Pjanic, tutte le altre cose passano in secondo piano, tutti i rigorini regalati all'Inter, i rigori non concessi alle avversarie dell'Inter e passano in secondo piano. E poi mi viene distinto andarmi, non a lamentare, ma a metterlo presente. Poi che sia un complotto o meno non lo voglio dire, però metto presente che c'è lo stesso arbitro che ha fatto degli errori e ce lo mettono lì. E andiamo, mettiamo il dito nella piaga in questa Juventus che attualmente è sofferente, ma io lo dico. Io lo dico e lo dico ora, la Juventus darà il tutto per tutto per battere arbitri, VAR, complotto contro la Juve e il Farsopoli. Perché la Juve questa partita la zannerà e ne sono sicuro che la zannerà, perché la Juventus si va al di sopra di ogni situazione fittizia che creano al di sopra della forza che ha la Juve. Perciò, signori miei, io voglio essere un po' a puntare sul nostro presidente. Sapete perché? Perché lo dico ad Andrea Agnelli. Andrea Agnelli, vai a bussare intanto in Lega e glielo dici. Signori, quest'arbitro che avete messo lo sappiamo tutti cosa ha combinato l'ultima volta, perciò state attenti, dite a quest'arbitro di fare l'arbitro onesto. Di fare una bella partita, un berderby d'Italia che venga il migliore. Perciò deve essere la società a fare delle giuste, non pressioni di favoritismi. A dire fate il giusto, non fate quello che avete combinato negli ultimi due anni alla Juventus. Perciò la società deve farsi sentire, andare a bussare in Lega, in FIGC, ovunque dirlo. Anche a Laia, associazione italiana arbitri e diglielo. Signori miei, diamo un po' di legalità al calcio, finiamola. Di abusare sempre della Juve che ultimamente non si sa difendere e sta muta. Questo mutismo lo dobbiamo togliere, dobbiamo intervenire nel migliore dei modi. Proprio ora, alla vigilia della partita, come fanno sempre gli avversari, come fa il Napoli, come fa l'Inter, come fanno tutte le altre, prima di incontrare la Juve, iniziano a cercare albi, iniziano a fare pressione agli arbitri perché hanno paura del favoritismo. No, signori miei, i favori non li riceve la Juve, i favori li ricevete voi perché vi lamentate. Noi non vogliamo lamentarci, noi vogliamo il giusto, che sia una partita corretta da parte dell'arbitro e del VAR. Noi chiediamo questo, non chiediamo altro, perché noi siamo la Juventus e non abbiamo paura di nessuno. Quando c'è di perdere, perdiamo, ci lamentiamo tra di noi. Ma l'arbitraggio deve essere, come si dice, il numero uno, che sia degno del derby d'Italia, che vinga veramente il migliore. Però non dobbiamo stare muti, dobbiamo farci sentire, perché un'altra presa in giro non la voglio vedere, un altro giocatore che scompare non lo voglio vedere e non voglio neanche vedere, non voglio neanche vedere che spariscono le immagini al VAR o che non ci sono. Attrezzatevi prima del derby. Non facciamo come in Champions League, che 12 ore prima è sparita la Gol Technology. Vabbè, noi ci siamo suicidati, non c'è stato bisogno, però ci provano sempre. Qualcuno prima che ci provi, perché già si è presentato doveri, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando legalità, che è importante, perché la Juve vince e vincerà al di sopra di ogni scorrettezza arbitrare, se ci sarà, che penso che qualcosa la combineranno. Signori miei, volevo sfogarmi così, così, proprio a pelle con voi e dirvi come la penso io, come la penso io. Allora, innanzitutto vi voglio ricordare una cosa. Se vi volete proprio divertire, faccio dei video. Per farvi divertire, faccio degli shorts, sempre su YouTube. Qui nel canale, come suol dire, faccio giornalmente un video che parlo di Juve, dentro e fuori dal campo. Negli shorts, sempre di YouTube, invece lì mi diverto un po'. Diciamo che metto un po' di comicità, un po' di pepe, un po' di sfottò, per divertirci un po', perché ricordiamoci, il calcio è sport, il calcio è divertimento. Perciò sugli sfottò, ridiamoci su e finiamola di prenderci tutto troppo sul serio, perché, signori miei, nel mondo ci sono problemi molto peggiori. Credetemi, ma il derby d'Italia lo voglio legale. Mi raccomando, signor Dovere, mi raccomando, i rigorini che non si fischiano a caso. Allora, non vi tengo tanto, vi ricordo come sempre di seguirmi su tutti i sociali, Instagram, Facebook, Tik Toki, Telegram, Twitter, BG24 Live. Dentro e fuori dal campo sono sempre live con voi. Poi, sempre ve lo ricordo, gratuitamente, iscrizione, like, commento e campanellina, signori miei. Fino alla fine, forza Juventus, i minnevaio, ossa benedica a tutti. Andrea Agnelli, mi raccomando, ricordiamoli e i signori Lega che la partita Juve-Inter deve essere legale. Ciao!